Cerchi un sito di crediti sicuro e veloce Golda.com fa per te E se inserisci il codice Paguro Riceverai un piccolo sconto Hakuna Matata ragazzi Ben ritrovati dal vostro Ciccioche per 89 Siamo tornati sulla Road to Division 1 Ragazzi Questa è una partita importantissima Perché potremmo essere Promossi alla Divisione 4 Come sempre vi ringrazio Per il supporto E come probabilmente avete visto Ho nuovamente 60.000 Crediti ma perché Perché mi sono venduto Bacca E non ve l'avevo fatto vedere Mi sono messo in vendita anche Gervinio If Che tutti e due Eccolo qua anche Gervinio If Quindi mero Mero anche comprato Gervinio If Attaccante ma sia Bacca e sia Gervinio If Non mi piacevano ma davvero Non mi ci trovavo bene Bacca proprio facevo pochissimi gol Quindi sono ritornato a questa E poi proverò un altro If Per fortuna non sono andato sotto Con i crediti Tra l'altro ragazzi Io non so come è andato il video di FIFA Perché dovrà uscire tra pochissimo Ma vi regalo un altro codice Eccolo qua ragazzi Ve lo metto Eccolo vedete Quindi Eccolo qua Faccio Faccio qualche inquadratura Cagliarda Tanto voi potete mettere anche Lo stop Le ultime HF6QZ Le ultime Quindi Io lo do come riscattato Ve lo ricordo E' un pacchetto oro Per Xbox One Purtroppo c'ho solo quelli per Xbox One Abbiate pazienza Prendetelo come viene Ce ne andiamo direttamente Online Perché siamo a 13 Punti Dobbiamo arrivare A 16 Ed eccolo qua ragazzi Il nostro avversario Di oggi Chissà che squadra Avrà E chissà Se ci riusciremo Dato che ci Mancano solamente Due partite Questa qua E' un'italiana A tutti gli effetti Infatti anche lui Ha Gervinio E insomma Vediamo un po' ragazzi Vi aspetto un campo Allora facciamo partire lui Facciamo finta di tiro La ripasso dietro Volevo Ripassarlo Dietro Eccolo qua Eccolo qua Aia Porca miseria Io provo a tirarci Una bombata qua Con Amsic Ma che Ma che me frega Te Magari rimbarzava Io ci spero sempre Rimbarza Rimbarza solamente a noi Quando tiriamo Mai all'altri Ok Facciamo Di questo Gervinio 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 è una macchina Infernale Ho preso E' preso Palo Ma Faffancuore Ma Mamma mia Gervinio Mamma mia Gervinio Aia Aia Mi sembra giù Allora Giustamente Pallo per lui Tanto non me la fanno vince Sta Sta divisione Ragazzi Non me la fanno vince Non me la fanno vince Palo per lui Rimpallo Perfetto Sull'altro Giocatore Che la butta dentro Rimpallo per me Una palla Affanculo Chissà chi cacca ha avvista Aia Questo è il rigore Faccia da culo Questo è il rigore Allora Non è detto che tra l'altro L'abbiamo insaccata dentro Ok Va bene Amsic Va bene Uno a uno Non ci abbasta Dobbiamo portare La vittoria In questo video Dai ragazzi Possiamo farcela Non capisco il perché Una cosa che sto sbagliando Ultimamente E me ne accorgo da solo E che sto facendo Cioè Mi preparo l'attacco Troppo vicino Alla difesa Cioè avete capito come Non tiro Da lontano Non tiro da lontano E questo per me È un errore No vabbè ma Stai scherzando però Ok Eeeh Fanculo a voi però Ballotelli Ma non così tanto forte Cioè tu mi stai a dire Che il mio difensore Il mio difensore Ha saltato E ha bloccato L'altro difensore Che aveva dietro Bene Be Guarda Vediamo un po' se Bello stop Complimenti Oh Mazza che stop No ragazzi No 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 Non esiste proprio Eh vabbè Ragazzi No 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 ragazzi Seriamente no Cioè Basta con sto script Ragazzi Cioè non gliela faccio più E poi tanti dicono No ma guarda che lo script Non esiste Non esiste lo script Va bene Guarda questo Il portiere mio Non riesce a parare una palla Dai ragazzi però Ma che devo fa' Io vi giuro Non so che cosa fare Non so che cosa fare No non riesco Non riesco raga Non riesco Non riesco L'avete visto Cioè raga L'avete visto voi L'avete visto voi raga Io che vedevo di Cioè commentate qua sotto Dite Dite secondo voi Quello che Quello chi Cioè Vabbè lasciamo perdere Vabbè Non so Giuro raga Non so Non so cosa dire Cioè Sono abbastanza Scorcentato Da tutto quanto Perché Boh Vabbè raga Io Io Non so che div Raga Non so che div Ho perso Va bene Manca l'ultima partita Per noi Preferisco Non giocarmela adesso Perché se no poi Me incazzo Raga Me incazzo E Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so L'ultima partita Per far tre punti Signori Io Non so che div Se il video vi è piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Al prossimo appuntamento Posti c'è che Per 89 Bella Ciao 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 Ciao